Buongiorno, onorevoli colleghi. Signor Neoministro dell'Economia, fa piacere che ci sia lei oggi in aula, dopo aver partecipato ai lavori fino a tarda serata di ieri con il Ministro per i rapporti col Parlamento, Boschi. Mi fa piacere che ci sia lei perché credo che, con l'incarico autorevole, prestigioso e di fondamentale importanza che lei sta ricoprendo e che ricoprerà, ci auguriamo, il più possibile per attuare tutte le enormi promesse del Governo Renzi, beh, lei sia qui a confrontarsi con noi è un fatto importantissimo ma anche fondamentale. Perché il decreto che noi stiamo analizzando, che stiamo discutendo e sul quale ci stiamo confrontando, o meglio ieri sera, non mi è parso che i pochi presenti in questa Assemblea volessero confrontarsi su questo tema. Semmai lanciare l'ennesima riproposizione di posizioni già prese, adottate, senza entrare nel merito e magari arrogando per supportare la propria tesi posizioni senza poi avvalorarle con dati concreti. Chi ha seguito i lavori ieri o può andare a cercarseli può, credo tranquillamente, condividere questa mia analisi. Ministro, questo decreto ovviamente non è responsabilità vostra, non è responsabilità del Governo attualmente in carica perché non l'ha licenziato questo Governo, ma è innegabile che la responsabilità è politica ed è piena vostra nel momento in cui deciderete come state decidendo, perché non l'avete di fatto ancora licenziato come possibilità quella di ritirare questo decreto. Ecco, se voi non ritirerete questo decreto le responsabilità saranno tutte vostre. Sarà troppo facile continuare a dire che è colpa degli altri perché sarebbe la prima grande bugia, il primo grande controsenso di un Governo e di un uomo liberatore della patria come Renzi che proprio ieri ha battuto più volte sul tasto di non continuare ad ossare ad altri le colpe e le responsabilità ma di assumersene in toto. Ed ecco, nel momento in cui il Governo Renzi dovesse continuare a perseverare questa politica assistenzialista, questa politica che va continuamente a mettere il ditino nei buchi di questa vasca che continua a produrre falle e su cui si pensa che gli italiani possono continuamente continuare a buttare dentro acqua con i secchi, l'acqua sono le tasse e i buchi della vasca sono gli sperperi, la mala gestione, l'inefficienza di questo sistema e l'inefficienza dell'apparato burocratico e statale di questo Paese nel quale ahi noi ci ritroviamo. Ecco, se il Governo non ritirasse questo è ovvio che dal mio, dal nostro punto di vista, dal punto di vista della Lega Nord le responsabilità sono al 100% di Renzi ma le responsabilità saranno anche le sue, proprio per il delicato ruolo che lei ricopre. In ogni azienda, in ogni organizzazione sociale, una semplice anche associazione culturale, se ci sono la non accurata gestione delle risorse, provoca inefficienze e provoca il venir meno del principio primo della condivisione sociale, cioè la trasparenza e l'allocazione intelligente e accurata delle risorse. Tutti noi sappiamo che questo testo non è altro che la riproposizione del Decreto Legge del 31 ottobre 2013, il 126, che recitava come titolo «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni e denti locali di interventi localizzati nel territorio». Meglio conosciuto come il Salva Roma, che è stato subito ribattezzato appunto questo, come Salva Roma bis. Perché è stato ritirato però il precedente decreto? Perché se questo è Salva Roma bis è perché il primo Salva Roma non è andato a buon fine. Il primo Salva Roma, appunto il 126, è stato ritirato al Governo allora in carica, al Governo Letta, dopo che era già stato approvato dal Senato della Repubblica e dopo che, durante l'esame in quest'Aula, il medesimo Governo aveva posto sulla conversione del decreto stesso la questione di fiducia, attribuendo dunque alle norme contenute nel decreto un valore discriminante ai fini della stessa permanenza in carica del Governo. Il decreto è stato poi ritirato, che in questo modo sconfessando la valenza della questione di fiducia posta sul decreto. Una prima azione schizofrenica, un primo percorso contorto verso il baratro del Governo Letta. Probabilmente la bussola si era persa, si era già persa, in balia delle correnti che attraversavano il Partito Democratico e si aveva paura di fatto della tempesta che si intravedeva all'orizzonte, non si aveva il coraggio di andare fino in fondo. Oggi però ci siete voi e ci siete voi, vi siete presentati come ciurma, come equipaggio di questa scialuppa lasciata in mezzo al mare, che ha deciso di intraprendere una rotta ben precisa. Io ieri mi sono annotato, nell'ora di intervento di Renzi, gli highlights, visto che ieri si è parlato più in inglese che nella lingua franca italiana, perché io credo che in Italia ci sia più di una lingua. Si è parlato di molti aspetti e Renzi ha voluto battere il tasto su alcuni caratteri che l'azione di Governo da lui presieduta vuole adottare. Ha voluto mettere l'accento sul rispetto per le istituzioni, ha voluto mettere l'accento sull'esperienza politica, sul confronto e la condivisione in quest'Aula, sul ruolo dell'Italia in Europa e dello scambio con Bruxelles, della credibilità della politica, della classe politica, ma anche degli amministratori locali. Ha richiamato grandi statisti, ha voluto ribadire l'importanza di questa generazione politica, politica e dello scontro generazionale. Ha poi parlato di legge elettorale, ma soprattutto ha detto non voglio alibi, non voglio scuse. Una buona azione mediatica per dire dobbiamo avere il polso della situazione e vogliamo andare avanti. Ha parlato dei diritti civili, ha provato appunto di ripresa economica, come Testè stavo argomentando. Ha parlato della pubblica amministrazione, del peso del fisco, dell'inefficienza della giustizia, della priorità di dare risposte al lavoro, di dare risposte agli imprenditori. Ha per tre volte richiamato l'attenzione su una sensazione, la sensazione del brivido, il brivido, come lo ha definito lui. Ha poi richiamato l'attenzione sui nodi strutturali, ha richiamato l'attenzione sul ruolo delle regioni, la riforma del titolo quinto e ci sembra che abbia paventato la volontà di fare una enorme retromarcia sulle autonomie, tornando, invertendo la rotta degli ultimi vent'anni, faticosamente portata avanti solo dalla Lega Nord, per decentrare, per dare più funzioni al territorio e fare in modo che si adotti il famoso principio della responsabilità amministrativa a livello periferico. Ha voluto mettere l'accento sul ruolo della scuola, sul patto di stabilità, il flagello di questo Paese, però lui ieri l'ha toccato in un solo aspetto. Ha voluto poi ovviamente fare un taglio sulle riforme, sulla semplificazione, ma soprattutto ha preso l'impegno preciso, a mio parere, di fronte a tutti noi ieri e di fronte al Paese, sulla volontà del Governo di fare meno decreti possibili per far lavorare di più l'iniziativa parlamentare, quindi il ruolo di rappresentanza che tutti noi svolgiamo e per il quale siamo lautamente pagati e per il quale dobbiamo appunto onorare, come lui ieri ha voluto sottolineare, tutti i giorni il ruolo che ci siamo presi, perché abbiamo deciso noi di entrare in politica per dare il nostro contributo di rappresentanza. Ecco, perché dico tutto questo? Perché questo decreto è l'esatto opposto, dal mio punto di vista, dal punto di vista della Lega Nord, di tutto ciò che ieri, stavo per dire letta, ho avuto un lapsus fruidiano, Renzi, ha detto. È la rotta opposta a quella che il Governo in carica, che ha avuto la fiducia poche ore fa, ha voluto intraprendere. E perché? Perché se noi continuiamo a tenere un atteggiamento come quello di ieri sera, non levo gli colleghi, sto tirando gli occhi, come si dice, dalla mia parte in Veneto, per vedere se c'è qualche collega che ieri ha argomentato le proprie tesi, ne vedo solo un paio, se noi adottiamo comunque un atteggiamento come quello di ieri, in cui in quest'Aula si dice che da parte della Lega Nord è in atto un attacco a Roma, beh, si dice una sacrosanta falsità. Qui non si sta discutendo di un attacco a Roma, né si sta facendo una propaganda politica come voi l'avete tranquillamente licenziata e come voi l'avete tranquillamente snobbata. Voi state facendo il più grande regalo al parassitismo, al statalismo e all'inefficienza sistemica di questo Paese. Voi state voltando le spalle con questo tipo di atteggiamento, dal nostro punto di vista, ai 60.000 persone, imprenditori, che erano in piazza pochi giorni fa, esattamente una settimana fa, a poche centinaia di metri da questo palazzo in piazza del popolo. Loro che chiedevano una responsabilità della classe politica. La classe politica, ricordiamocelo bene, parte dal consigliere di quartiere, dal consigliere di municipalità e arriva fino all'euro parlamentare. Questa è la classe politica. Non è che la classe politica c'è solo qua dentro o è all'interno delle stanze burocratiche dei partiti. La classe politica è ovunque. E voi state con questo decreto che tra poco inizieremo ad analizzare dal nostro punto di vista, perché ho ancora la bellezza di 20 minuti per continuare questa mia arringa. State voltando le spalle a tutto questo. Non state rispettando l'impegno che vi siete presi ieri. Prima e fra tutto il confronto e la condivisione, ma soprattutto no alibi e no scuse e soprattutto la meritocrazia. La meritocrazia che con questo decreto viene assolutamente meno. Quando ieri i compagni del Partito Democratico e di SEL dicevano che noi ce l'abbiamo con Roma per partito preso, beh, hanno detto un'enorme, dal mio punto di vista, idiozia. Si sono basati solamente sul colore del fazzoletto che noi portiamo nel taschino. Non hanno voluto nemmeno ascoltare, cosa che mi auguro possa iniziare a fare oggi con gli interventi che poi seguiranno, perché credo che questo funerale andrà avanti per un po', non solo per oggi, magari anche per tutta domani. Sarà un'agonia lenta, come un'agonia lenta quella dei milioni di romani che vivono da sempre qui e che vengono male amministrati da una classe politica che è più guardata ai propri interessi, agli interessi immediati, di dare risposte creando occupazione assistenziale e non una vera e reale occupazione basandosi sull'autoimprenditorialità e magari sulle enormi materie prime, prima fra tutta la cultura che c'è in questo territorio e invece, scusate, creando posti di lavoro e creando enormi buchi, tanto poi qualcun altro ci avrebbe pensato, soprattutto favorendo la vicinanza del municipio a queste aule parlamentari in cui tutto viene deciso e in cui da sempre, purtroppo, ed è il motivo per cui la Lega Nord è nata, noi vogliamo che cambi, perché le risorse devono rimanere nel territorio per essere gestite nel territorio, non possiamo più fare in modo che le risorse che vengono sottratte ai territori e poi finiscano qui. E l'esempio principe, perché un anno fa eravamo in campagna elettorale, è l'Imu. I 400 milioni di euro che sono stati pagati più o meno in tutta Italia, perché più o meno? Perché in molte parti del Paese, in particolare al Nord, non lo dice Emanuele Prataviera che sta parlando, ma lo dicono tutti gli studi nel merito dei dati dei censimenti, degli accatastamenti, soprattutto al Sud non sono accatastati, quindi di fatto non pagano d'ufficio l'Imu. Beh, che 400 milioni di euro pagati col sangue da molte famiglie, abbiamo sentito delle storie più assurde, credo, tutti quanti, beh, quei soldi vanno in gran parte, o meglio, tutti più 100 milioni, ricordiamolo bene, tutti 400 milioni di euro, più 100 milioni per ripianare una parte del debito di Roma. E allora, di cosa stiamo parlando? Se il pesce puzza dalla testa è chiaro che la puzza di questo Paese puzza proprio dalla capitale, perché se la capitale che dovrebbe dare l'esempio, se la capitale che dovrebbe essere l'avanguardia di un sistema amministrativo che dovrebbe essere l'esempio a cui far seguire gli altri 8 mila comuni non rispetta, è chiaro che non possiamo aspettarci granché dal resto. E quindi quando voi date, di fatto la copertura non è quella, lo so, però il bilancio è uno, il calderone è uno, lì dentro finiscono i soldi. Se poi si dividono in vari capitoli, però lì dentro sono andati 400 milioni di euro e ne usciranno 500 milioni solo per Roma. E il risultato si è detto, questo dato non si è detto, si è detto però che altrettanto viene fatto per Milano, peccato che le cose sono un po' diverse, peccato che vengono dati 20 milioni per gli investimenti per l'Expo, non vengono dati 500 milioni per ripianare gli enormi buchi causati da chi? Da chi? Da chi se non da chi ha amministrato questa città, che è vero, è stato di destra e di sinistra, ma sempre Romano era. e poi al Senato abbiamo visto che se questo può valere per alcune realtà non vale per tutte. Ieri si è detto Roma è la più bella città del mondo, questo è un'opinione personale, certo il centro è innegabilmente magnifico, in particolare in alcune ore della giornata, ma ci sono altre realtà bellissime, fantastiche, che riversano altrettanto come Roma milioni di turisti ogni anno, sia nazionali che internazionali, e che hanno beneficiato di enormi fondi pubblici. Non voglio andare lontano, non voglio parlare del sud, voglio parlare di una città della mia provincia in cui abito io, Venezia. Venezia ha avuto enormi contributi pubblici, ha enormi risorse proprie, prima fra tutto appunto la cultura e il turismo, ma è una città che essendo sempre stata malissimo amministrata, ora è sull'orlo del Baratro e mentre per Roma si possono destinare 500 milioni di euro ai dipendenti comunali di Venezia male amministrati ora dal sindaco Orsoni, pochi anni fa dal sindaco Cacciari e così via, non viene data la stessa possibilità. Allora, se si dice che l'Italia è un paese unico, voi state in questo momento dicendo il contrario. L'Italia non è un paese unico, dobbiamo iniziare a dircelo e non essendo paese unico bisogna adottare tutte le iniziative che facciano in modo che i cittadini vengano tutelati dappertutto in maniera uguale. Non si può pensare con un'unica legge di sistemare un unico problema a livello nazionale perché quel problema ad esempio la disoccupazione non lo si combatte a Venezia come lo si combatte a Roma piuttosto che a Firenze piuttosto che a Napoli piuttosto che a Torino. Il federalismo è questo non è niente altro e invece si vuole continuare a proprietare questa logica di accentramento perché qui si deve decidere perché gli affari si devono fare non in transatlantico cioè a tre metri da quest'aula ma si devono fare magari alla sera al ristorante quando viene giù il sindaco piuttosto che il presidente della provincia di Turno piuttosto che il presidente della municipalità di Turno a chiedere ai rappresentanti del territorio di avere uno sconto di avere un privilegio non deve più funzionare così è questo che chiede il Paese e Ministro io so che ieri nel momento in cui Renzi diceva questo lei annuiva credo che sia naturale ma voi state facendo proprio per queste argomentazioni l'esatto opposto di quello che avete promesso ieri nei fatti state tradendo il motivo per cui avete chiesto la fiducia state mentendo e noi non possiamo far finta che che vada tutto bene le disposizioni di questo decreto sono atte a garantire la funzionalità degli enti locali mettendo però delle pezze costose a bilancio del carico pubblico a tutti i buchi o voragini prodotti irresponsabilmente dalle amministrazioni di vario livello dai comuni alle regioni sparse d'Italia ma non si capisce ben con che logica mentre altre devono essere appunto punite non devono essere premiate sulla base di che cosa non l'ho capito ho capito però un dato che mentre lei fa il Ministro dell'Economia mentre ci sono aziende che chiudono e l'approccio usato fino adesso è quello di dire beh tanto comunque il mercato è una torta se se ne va un attore del mercato un imprenditore ne arriverà un altro beh il mondo reale non va in questa direzione il mondo reale nel nostro paese non va in questa direzione magari va ancora così in Austria che rispetto a dove abito io è a 150 km di distanza e mi chiedo come fanno lì a funzionare le cose come fa a esserci voglia di fare impresa e non ci sia qui eppure siamo grossomodo tutti in uno stesso contesto abbiamo la stessa cultura siamo tutti i miti europei però non funziona così perché perché le regole del gioco sono diverse voi avete la responsabilità di cambiare ma dovete cambiare prima la mentalità e per fare questo dovete appunto iniziare a ritirare questo tipo di decreti che vanno a premiare chi fa il furbo e non vanno invece a premiare la meritocrazia non vanno ad aiutare chi ogni giorno si impegna sul territorio per cercare di dare delle risposte vogliamo parlare di un dato solo senza andare nello specifico potrei parlarvi delle mie esperienze amministrative pergresse e della non possibilità di dare delle risposte ma non aducendo mai seppure seppure avesse potuto farlo che è colpa o la responsabilità del patto di stabilità quando lavoravo io in provincia come assessore le aziende venivano pagate in 60 giorni eppure avevamo i vincoli del patto di stabilità anche noi lasciati da un'amministrazione che di certo non aveva i bilanci virtuosi se c'era una buca sulla strada il cittadino veniva spiegato perché non veniva detto a colpa del patto di stabilità o a colpa di Tizio o a colpa di Caio perché questa significa essere responsabili se c'era un problema sui rifiuti si prendeva per il coppino il presidente della municipalizzata che non lo fa per opera dello spirito santo lo fa innanzitutto perché ha deciso di farlo altrimenti si dimette e secondo lo fa perché comunque ha un rimborso spese che gli permette tranquillamente di vivere sereno per onorare il servizio che i cittadini gli affidano tutti gli anni pagando enormi enormi tariffe beh nell'ama l'azienda dei rifiuti di Roma potremmo parlare per ore citiamo vorrei citare solamente alcuni dati questo decreto stanzia oltre 20 milioni in tre anni per la crisi della gestione dei rifiuti di Roma perché tutto ciò negli altri comuni italiani è un'attività da organizzare mentre invece a Roma è sempre un'emergenza un problema e nel frattempo continuiamo a vedere i maiali nelle foto io non li ho mai visti dal vero però credo che chiunque arrivi a Roma veda soprattutto questa è una cosa che fa male per chi arriva magari da oltreoceano veda lungo la strada ammassi di rifiuti schifezze varie che di certo uno si chiede come è possibile che sia ancora questo un tipo di gestione che non venga commissariata su cui non venga preso dei provvedimenti seri drastici come è possibile che nel centro di Roma ci siano intere zone di pregio culturale di pregio paesaggistico usate come discariche vere e proprie in centro i turistici fanno le foto documentano queste cose basta andare in qualsiasi blog di viaggi e si vede apprezzamento per Roma la simpatia dei romani contro soprattutto i rifiuti e il degrado che c'è in centro eppure si continuano a dare ancora milioni di euro l'AMA è indebitata con le banche per 670 milioni di euro somma paragonabile ai ricavi di un anno quindi è indebitata per un anno ma ha assunto tra il 2008 e il 2010 1520 persone scusate se questo non è assistenzialismo che cos'è certo servono persone per gestire i rifiuti ma 1500 persone nuove neossunte in un triennio credo che siano quasi un record storico potremmo parlare di tantissime inefficienti inefficienze però credo che una delle più importanti a cui fare riferimento è il motivo per cui ci siano delle norme ben precise nel diritto amministrativo e perché per Roma non vengono mai adottate con un buco da 18 miliardi di euro non ci si può permettere di dare un commissario che gestisca ad acta questo buco creando una bad company e facendo così in modo di creare il primo disequilibrio tra amministratori c'è il comune di 5-10 mila abitanti a fianco a me ho un collega che era sindaco fino a pochi mesi fa di un comune produttivo e che se faceva male rischiava di proprio perché non può accadere questo il primo cittadino della cosiddetta capitale che adducendo a questo status speciale che gli altri 8 mila comuni non hanno può fare alto e basso quello che vuole perché non adottate un principio meditocratico partendo dalla testa perché è questo che chiede la gente è questo il motivo principe o tra i motivi principe per i quali la gente non va più a votare e non andrà a votare nemmeno per le europee se l'esempio vogliamo darlo e vogliamo darlo come ha detto ieri da buon padre di famiglia io credo che questo esempio vada dato prima fra tutti da Roma perché Roma deve continuare essere considerata come una macchina che genera debiti perché Roma deve essere considerata come una città non primus inter pares cosiddetta cioè prima ma comunque alla pari degli altri e invece come una cenerentola questo non ci chiediamo non ci chiediamo come mai sia l'unica realtà in Italia in cui quasi 400 dipendenti le farmacie comunali abbiano un passivo enorme di oltre 3 milioni di euro solo per le giacenze in magazzino questo non riusciamo assolutamente a capacitarci non riusciamo a capire come questa maggioranza possa continuare a prendere in giro gli italiani dicendo che bisogna pagare l'Imu perché altrimenti arriva la troica e poi destini tutti questi soldi proprio qui non riusciamo a capire come ieri SEL con un rappresentante un onorevole che io stimo moltissimo però possa dire che non possiamo permetterci che Roma venga trattata come la Grecia no dobbiamo farlo proprio per dare l'esempio dobbiamo fare in modo che a Roma arrivi una troica che metta a posto i conti e che finalmente faccia premiare la meritocrazia anche di questa realtà perché la settimana scorsa in piazza c'erano anche dei rappresentanti di questo territorio c'erano delle categorie anche di Roma che dicono come è possibile che io lavori un anno per pagare le municipalizzate non guadagni nulla rischi del mio e faccia rischiare anche i miei dipendenti mentre c'è sempre qualcuno al Campidoglio pronto a fare quello che vuole e non verrà mai punito perché tanto il massimo della punizione è alzare le tasse prendersi qualche qualche fischio quando passeggia e magari lamentarsi anche perché ha preso quel fischio quando voi ci tacciate di razzismo territoriale purtroppo dal mio punto di vista non capite l'essenza non volete capirla oppure peggio vi va bene questo sistema allora dovete avere il coraggio di dire quando tornate a casa dalle nostre parti quando andate in giro perché gli imprenditori vi chiamano per sfogarsi per descrivervi che la notte non dormono più perché devono scegliere se lasciare a casa il neo assunto 28enne che magari si è appena fatto il mutuo o se lasciare il collaboratore di sempre che ha più di 20 anni di esperienza perché queste sono le storie reali quelle che ieri diceva Renzi del padre che ha gli occhi lucidi beh queste sono le storie reali dovete dire che l'inefficienza si produce qui dentro dovete dire che la questione è assolutamente territoriale perché mentre c'è un territorio che è costretto a far pagare l'IRPEF come il Veneto che mentre in un territorio si è costretti a chiudere ospedali e a far pagare il ticket quando ce ne sarebbe tranquillamente la possibilità di non farlo perché questo Stato continua a succhiare 21 miliardi di euro parlo del Veneto e a livello di Padania sono 95 miliardi di euro che potrebbero essere tranquillamente impiegati e reimpiegati nel territorio non per dare sussidi come fate voi come avete sempre fatto da Roma creando dei bandi che poi vengono vinti da chi è in grado di leggerli quei bandi da chi è in grado di ammaliarvi durante le serate o voi avete il coraggio di dire quei soldi devono rimanere nel territorio per abbassare la pressione fiscale e l'unico territorio che può farlo è il nord l'unico territorio che può iniziare a farlo è il Veneto e oggi non a caso Renzi è in Veneto a vedere una realtà meglio gestita da tutta Italia un esempio simile alla Baviera per altri aspetti molto superiore alla Baviera che è a Treviso da sempre amministrata dalla Lega Nord non da Manildo che è ministro Nanno e l'ha già rovinata e l'ha già per molti aspetti distrutta andate a chiederlo ai trevigiani beh se questo è il principio che voi volete continuare non volete continuare ad adottare e volete continuare a perseguire la strada del Salva Roma beh allora non ci siamo se per voi la priorità è ancora giustamente colleghi del Partito Democratico del mio territorio del mio territorio del nostro territorio se per voi la priorità sono ancora i trasporti pubblici campani e non sono le migliaia di pendolari che non si possono più permettere la benzina per andare a lavorare in macchina e usano il treno ma nelle ultime due o tre stazioni prima di Venezia non possono neppure per colpa di questo Stato beh allora voi dovete iniziare a farvi un enorme esame di coscienza perché state tradendo esattamente le persone a cui voi raccontate frottole e continuate a raccontare frottole per rubare semplicemente i loro soldi e mantenerli succubi di questo sistema assistenzialista e parasitivo grazie grazie